Non solo una rievocazione di un fatto storico, ma anche un vero e proprio progetto di valorizzazione del territorio. È la cavalcata di Satriano che ricorda l'ultimo viaggio fatto da San Francesco Morente, accompagnato da Bagnara di Nocera Umbra ad Assisi da una delegazione di cavalieri. È stata rievocata sabato e domenica, 1 e 2 settembre, chiamando a partecipare all'organizzazione i comuni di Assisi, Spello, Valtopine e Nocera Umbra e l'Associazione dei cavalieri di Satriano. Partiti di prima mattina, ad arrivo torto, i cavalieri hanno ricevuto dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti, la pergamena con un messaggio di pace da consegnare al primo cittadino di Nocera Umbra. Quindi a Spello, per loro, la benedizione del vescovo Domenico Sorrentino e infine, passando per Valtopina, l'arrivo a Nocera in serata. La ripartenza alla volta di Assisi il giorno successivo, tra gli appuntamenti principali, la messa a Satriano e l'arrivo nella città serafica. Ricordiamo ogni anno il primo weekend di settembre questo momento che rappresenta, oltre a un momento di rievocazione, anche un momento importante di rilancio e di valorizzazione del nostro territorio e soprattutto di unione tra i nostri quattro comuni che stanno nel parco del Monte Subasio. Quindi è un momento bello, un momento che ci vedrà domani tornare in Assisi. Oggi ho ricevuto il messaggio francescano di pace e bene che mi ha inviato il sindaco di Assisi, che rimanderò domani mattina, partendo dal nostro luogo simbolo, la Romita di San Francesco, qui a due chilometri da Nocera Umbra, per far sì che il mio messaggio torni nella città serafica. Questo è un bel momento per Nocera, per i nocerini, che insieme a tutte le altre comunità degli altri comuni vogliono ricordare la ricchezza che ha questo nostro territorio. Nelle intenzioni dei quattro comuni che partecipano all'organizzazione della cavalcata affidata ai cavalieri di Satriano è questo uno degli esempi di valorizzazione del parco del Monte Subasio. Anche per questo è stato stipulato un protocollo d'intesa che ha dato vita ad un comitato apposito per la promozione della storica rievocazione, per la sua crescita e divulgazione.